Arriverà a partire dal prossimo 5 maggio presso il Cinema Royal un nuovo film, Criminali si diventa. Martina Fusaro è protagonista di un film che è stato girato dove? Nelle Marche, quindi è tutto un film made in Marche e questo perché? Perché i registi ci tenevano in particolar modo a promuovere la regione Marche a livello culturale, artistico ma soprattutto cinematografico e anche paesaggistico perché insomma io mi sono sentita molto accolta da loro ma da tutti i marchigiani perché la regione Marche comunque ti accoglie in un modo veramente particolare e si respira veramente aria di arte, di cultura, quindi è importante che vada sul grande schermo. Allora è importante però ecco pubblicizziamo naturalmente le Marche, la bellezza di questi siti che appartengono alla nostra splendida Italia però poi Criminali si diventa e come mai allora questa veste è un pochino violenta? Allora questa veste è criminale perché in realtà il film è ispirato a una storia vera e Elio Pazzaglia nel 1975 rubò tre quadri, due di Piero della Francesca e quindi c'è molta cultura per questo e uno della muta di Raffaello quadro molto importante perché lo ritroviamo proprio nel film Criminali si diventa Elio Pazzaglia in realtà nel film si chiama Enzo Marziali interpretato dal bravissimo Ivano Marescotti con cui mi sono trovata veramente bene sul set esce di prigione nel film e incontra sua nipote Elettra, la protagonista interpretata da Martina Fusaro e la nipote Elettra però è stata contattata da un uomo misterioso chiamato Lo Svizzero che lavora per conto di una cinese, un'imprenditrice cinese molto ricca la quale commissiona il furto di un'opera d'arte Oltre alla programmazione tra pochi giorni partirà abbiamo già detto dal Cinema Royal però poi ci sarà anche la presentazione del 7 maggio e spero insomma che vengono in tanti soprattutto perché io ci ho tenuto molto a portare il film Criminali si diventa qua Civitavecchia perché ci sono molti giovani civitavecchiesi che hanno veramente bisogno di sentirsi ispirati e io voglio che loro vedano il film e questi giovani talentosi devono dire ok posso farcela anch'io Grazie